Alla prossima slide, Marco Vaona che è diplomato nel 97, grazie a un'esperienza progettuale vissuta nel corso del master, viene chiamato da De Longhi, l'azienda dell'elettrodomestico che tutti conoscete, ad approfondire un concept che era nato in School Italian Design e che è poi scocciato nel deumidificatore Tasciugo. Dal 2002 è senior designer in De Longhi e progetta e sviluppa prodotti presso le principali filiali in America, Inghilterra, Germania e Hong Kong. Con i prodotti progettati a De Longhi ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui in due edizioni diverse il Red Dot Design, che è un po' come l'Oscar dell'elettrodomestico a livello internazionale. Svolge anche attività di designer freelance. Marco Vaona è con noi oggi e lo ringraziamo per la sua presenza e vi facciamo anche un applauso per la sua importante attività di design. I designer che vengono citati cortesemente alzino la mano perché non so quanti di questi siano in sala. Grazie. Grazie. Grazie.